Testimonia il Vangelo con fedeltà. Cristo risorto! Buona giornata carissimi amici. Quanto è bello anche oggi iniziare questo giorno con il Vangelo, con la parola di Dio. E ci viene data al Vangelo secondo Luca, capitolo 19, 11-28. In quel tempo Gesù disse una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il Regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque, un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati dieci dei suoi servi, consegnò a loro dieci monete d'oro, dicendo, fatele fruttare fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire, non vogliamo che costui venga a regnare su di noi. Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse, Signore, la tua moneta d'oro ha fruttato altre dieci. Gli disse, bene, servo buono, poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra dieci città. Poi si presentò il secondo e disse, Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate cinque. Anche a questo disse, tu pure sarai a capo di cinque città. Venne poi anche un altro e disse, Signore, ecco la tua moneta d'oro che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei un uomo severo, prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato. Gli rispose, dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca, al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi. Poi disse ai presenti, toglieteli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha dieci. Gli risposero, Signore, ne ha già dieci. Io vi dico, a chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici che non volevano che io diventassi loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me. Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti salendo verso Gerusalemme. Amen. Carissimi amici, oggi in questo capitolo 19 del Vangelo secondo Luca, vediamo come Gesù avvicinandosi a Gerusalemme e poco dopo c'è l'entrata messianica, regale, gioiosa, festosa, Gesù sa che ci sono alcune persone che, dice l'Evangelista Luca, pensavano che il Regno di Dio dovesse manifestarsi. Quindi immediatamente, quasi subito, appena entrato a Gerusalemme, loro credevano che Gesù avesse preso in mano il Regno di Israele e fosse instaurato come re di Israele, facendo subito giustizia. Ma Gesù sta profeticamente annunciando ciò che sarà attraverso questa parabola, parlando di un uomo di nobile famiglia che parte per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. E' il Padre Dio che ha mandato sulla terra per noi il suo figlio Gesù per poi ritornare con il titolo di re, re dei re e signore dei signori. Ma tra la sua venuta e il suo ritorno c'è un tempo, c'è un periodo ben preciso, quello che i discepoli e i giudei che lo seguivano non comprendevano. E molto spesso nemmeno noi capiamo che viviamo in questo periodo intermedio tra la prima venuta di Gesù e la seconda venuta. siamo ormai nelle ultime due settimane del tempo ordinario e le letture e il Vangelo ci aprono la mente all'atteggiamento da avere in questa attesa dove non è importante il giorno e l'ora puntuale in cui Gesù viene ma è importante l'oggi nostro il mio oggi il tuo oggi viviamo anche in questo giorno l'oggi quindi queste persone, questi servi a cui il padrone ha affidato delle monete d'oro è la fiducia che Dio mette nelle nostre mani in quanto testimoni suoi quando dice ai servi bene siete stati fedeli nel poco vi darò autorità su molto e questa è la fedeltà a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha la fedeltà alla testimonianza io sono cristiano per testimoniare non solo per vivere con Dio in Dio la mia vita la mia famiglia la mia vita ordinaria nel lavoro ma per essere testimone perché a me è stata data una moneta è stato dato un dono attraverso la mia bocca il mio corpo la mia stessa vita posso devo testimoniare che Dio è con me è al mio fianco oggi il Vangelo ci spinge proprio ci sollecita ad avere un impegno missionario per il Vangelo in questa attesa del ritorno noi siamo coloro che prolungano l'annuncio che ha iniziato Gesù stesso convertitevi perché il Regno di Dio è in mezzo a voi noi innanzitutto dobbiamo assumere queste condizioni di conversione cioè essere pronti aperti al Vangelo di Dio e poi testimoniarlo agli altri e la nostra testimonianza si basa sulla misericordia di Dio Dio è grande fratelli e sorelle Dio è buono Dio è amore Dio è venuto affinché noi avessimo la vita e l'avessimo in abbondanza quanto è importante fare innanzitutto l'esperienza della vita piena e benedetta di Gesù con noi e per noi ecco perché allora non penseremo più che Dio è cattivo non avremo più paura di Dio Signore io ho nascosto il dono che mi hai dato ma saremo generosi come lo è lui ecco perché oggi diciamo Signore Gesù veniamo a Te con un cuore aperto un cuore che è disponibile ad essere lavato ad essere usato usami Signore e il dono che Tu hai fatto a me io lo possa fare e donare agli altri voglio essere un testimone gioioso della Tua presenza della Tua risurrezione ma che io non nasconda mai il dono dell'esperienza con Te ma lo possa donare oggi stesso a coloro che incontrerò a Te Gesù sia sempre l'onore e la gloria nei secoli dei secoli amè allora carissimi amici testimonia il Vangelo con fedeltà questo è lo slogan di oggi testimoniamolo con la nostra stessa vita nella gioia grazie per avermi accolto buona giornata a domani ciao parla Signore perché il tuo servo ascolta parla a mi Signore ti ascolto parla Signore perché il tuo servo ascolta parla a mi Signore chi ha iscrivito